La Puglia è la regione italiana con il migliore incremento di turisti rispetto all'anno precedente. I dati del Codacons e le reazioni della regione Puglia. La Puglia è la meta turistica preferita dagli italiani per l'estate 2019. Lo sostiene l'Associazione Nazionale Codacons, che afferma che la Puglia è stata scelta dal 21% delle famiglie, seguita da Sicilia, Toscana e Liguria. Si tratta, hanno dichiarato in una nota congiunta il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, e l'assessore regionale alla cultura e al turismo, Loredana Capone, di un risultato che premia il grande sforzo di programmazione per un vero salto di qualità del turismo in Puglia. Secondo Codacons, nella ripresa del turismo italiano tra giugno e agosto, segna una spesa per le vacanze estive complessivamente di 25,4 miliardi di euro, con una crescita del giro d'affari del più 5% rispetto al 2018. La Puglia è stata la destinazione favorita dagli italiani e il numero di cittadini che si è concesso una vacanza è aumentato del 41% rispetto a dieci anni fa. Siamo molto soddisfatti, hanno evidenziato il presidente Emiliano e l'assessore Capone, perché questi numeri raccontano innanzitutto la straordinaria capacità dei pugliesi di accogliere e far sentire a casa i turisti. Sì, anche gli operatori turistici stanno investendo molto in qualità dei servizi e formazione del personale ed è evidente che anche le politiche messe in campo dalla Regione Puglia nel corso di questi anni hanno determinato questi risultati che ci confortano anche in termini di nuova occupazione, più 4% dal 2017 al 2018, in un settore trainante dell'economia pugliese. Stiamo investendo, hanno spiegato Emiliano e Capone, su una Puglia che offra strutture ricettive migliori, che offra complessivamente una migliore accoglienza nei centri storici, dove il restauro dei tanti monumenti propone una Puglia ancora più bella. Le politiche di destagionalizzazione sono risultate particolarmente vincenti e a tale proposito è bene ricordare lo straordinario lavoro di aeroporti di Puglia e le connessioni con tutte le città nazionali e internazionali, che aumentano di anno in anno, producendo risultati straordinari. Il risultato evidenziato dal Kodakons racconta inoltre una Puglia che tutela il suo ambiente, i suoi borghi e il suo mare, che vanta ben 13 bandiere blu, grazie anche agli investimenti sulla depurazione delle acque. Un luogo magico che coniuga passato e futuro e dove il viaggiatore può cogliere emozioni speciali, territori stupendi e un'enogastronomia indimenticabile.